Ben ritrovati amici di Ukewatch Italia, sì 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 è ufficiale, ci siamo dati all'unboxing di carte Pokémon, cacchio ve lo dicevo che è una mia passione, in realtà non da tanto le carte Pokémon, però quando ero ragazzo, quindi si parla di almeno 25 anni fa, 20 anni fa, io giocavo a Yu-Gi-Oh! E quindi ho sempre sta voglia qua di sbustare, di unboxare pacchetti di carte, dato che c'è un po' la moda delle carte Pokémon e io sono un mega fan di Pokémon, ho unito le due cose e ho detto ciao, portiamo sul canale un po' di unboxing di carte Pokémon. Allora, prima di iniziare tutto, io vi chiedo come sempre di lasciare un bel like, di scrivermi nei commenti quello che ne pensate, se vi piace sta roba qui, se vi piace questo mio progetto oppure no. Lo scorso video è andato abbastanza bene, speravo meglio, però ci possiamo rifare in questo video e oggi vorrei unboxare la collezione di Orbit.ly V, all'interno dovrebbero esserci delle buste con il Mega Pikachu, non ne ho idea, sapete che le espansioni non le conosco, ho appena iniziato, avevo unboxato per i fatti miei un paio di robe e poi la collezione che abbiamo unboxato insieme nel video dell'altra volta. Allora, direi di iniziare, come sempre qua davanti a me vedete la webcam e iniziamo a bomba, anzi no, prima ci dobbiamo aprire sto coso qua. Sembra un po' scammato, sembra un po' scammato, perché era già aperto qua, ma non lo so, si apre troppo bene. Anche questo ho preso a lavoro da me. Spero, spero che non sia scammata come roba, sono 30 euro, quasi 30 euro buttati via. Allora, vai. Il cartone, cioè non mi dispiace tenere, non distruggere il cartone, ma tenerlo bene, eh. Però, 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 la plastichetta, via la plastichetta, le bustine, le mettiamo un attimo qua, la Mega Carta di Orbit.ly V, che la metto insieme all'altro, però non ci interessa, e il codice non lo teniamo qua, che non ce ne frega assolutamente nulla. Ci trasferiamo qui, dove c'è Marcello, il bilancino bello. Apriamolo, vediamo un po', vediamo un po' cosa ci dice il nostro amico Marcello. Accendiamolo. Allora, sì, allora, sì, sintonia mentale abbiamo, non sintonia mentale. Due voltaggi sfolgoranti con il Mega Pikachu, che è quello che vogliamo droppare, e poi uno Spade Scudo. Iniziamo a pesare Spada e Scudo, sono 22,38,37. Ok, mettiamolo qua. Poi, voltaggio sfolgorante, Pikachu 22,20, quindi abbastanza leggero. Poi, lui, 22,12, ancora più leggero, quindi facciamo l'ordine e sintonia mentale con il nostro Girataina. 22,20 anche lui. Allora, facciamo così, l'ordine è questo, ragazzi. Cioè, prima i due voltaggi sfolgoranti, poi sintonia mentale e poi, per ultimo, Spade Scudo. Lo voglio ripesare un attimo. 22,3, che 40 l'ha andato, va bene, ok, ok, va bene, va bene, così. Marcello, spegniti, spostiamo il tutto. Questa era la carta che abbiamo trovato l'altra volta nel video e dobbiamo batterla, cioè, tantissima roba. Iniziamo, iniziamo. Prima bustina. No, non mi sembra scammata, anche se qua in alto è un po' aperta, eh. Quindi, boh, non lo so, apriamola. Sì, sì, sì. Allora, vai, 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 vai. Ragazzi, cosa troveremo? Troveremo roba grossa? Troveremo roba bella? Spero di sì. Io spero, come sempre, che il trick sia uno, due e tre. Il trick di tre, ma se c'è un'energia dovrebbe essere quella giusta. No. Il trick di quattro? Uno, due, tre, qua. Boh, non lo so. Non so qual è il trick. Però c'è sicuramente Electric. Electric. Vediamo, attivamo alla fuoco. Eccolo lì, vai. Via Electric. Poi abbiamo un Girafarig. Molto bene. Capsula della memoria. Mudbray. Brutto. Picky Pack. Brutto. Seedot. Bruttino pure lui. Poi abbiamo un Sandile. Che non è Reverse. Non è Reverse. Non è Niente. Un Jolti. Non l'avevo già trovato. Boh, va bene. Ecco qua la Reverse. Che è di Ivano. Quindi il trick... Aspetta, quanto me ne mancano? Al trick è di quattro? Mettiamo avanti questo, dai. Il trick è di quattro. Infatti sì, l'energia la togliamo. Ivano. Ivano. E poi, attenzione, non c'è nulla di interessante. C'è Manectric. Va bene. Mettiamo Ivano di qua e l'altra fuffa di là. Porca miseria. Porca miseria. Brutta roba. Pikachu. Portaci fortuna. Anche se ci odiamo un po'. Almeno io ti odio un po'. Caro Pikachu. Non mi piace per così tanto. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro Pokémon preferito. Allora, via questo. Il codicino via. Uno, due, tre e quattro, avevamo detto. Zack. Ah, ok, infatti. Energia cacqua. Onion. Nel frattempo speriamo che metta fuoco in fretta. Onion. Girafarig. Sempre lui. Metang. Sendile, ragazzi. Portatemi fortuna. Jolti, che la busta è praticamente identica a quella di prima. Ma va bene così. Ferrosid, bellissimo. Tra l'altro l'ho usato un sacco su Spade Scudo. Anche perché l'ho shiny antato grossissimo. Ci avevo messo un botto di tempo a shiny antarlo. Ferrosid. Però era molto, molto utile nel PvP. Se non ricordo male, però non me ne intendo di PvP. Shappet. Chiappet. Schiddo. E che gli schidi bippa. Attenzione. Cos'è già? Zero ora. Olo reverse. E dietro una bella mazza. Perché, giustamente, giustamente non possiamo essere fortunati. No, c'è Dayansi. O Diancie. Olo. Bello, bello. Mi piace Dayansi. Mettiamoli qua insieme. Togliamo gli altri. Abbiamo detto che adesso c'è sintonia mentale. Sintonia mentale con giratina. C'è giratina? Mamma mia. Che brutto non conoscere le carte. Non conoscere una mazzetta. Eccoci qua. Boom. Ancora un sacco di robe da aprire, ragazze. Via. Qua è sempre a 4. Mi auguro di sì, dottore. 1, 2, 3 e 4. Ok, sì. Energia, energia acqua con sta roba qua strana. Va bene. Ci piace. Poi. Baskulin. Bruttissimo, sto Pokémon. Morsi brulicanti. Bello. Cortesia di Misti. Molto bene. Misti mi piace un sacco. Nocturl. Nonostante io sia un allenatore di fuoco. Ok. Io ho sempre startato con i Pokémon di fuoco. Però, però, quelli d'acqua spingono un sacco. Slakot. Che bello sto artwork. Questa è la vita che vorrei fare io. Su un albero con un cocktail di rami. Che bello. Fongus. Attenzione. One Edge. Ok. Scalmai siamo sfortunati a sto giro. Magnemite. Ok. Adesso qua dovrebbe esserci la Holo. No. Ah, c'è ancora Fletchling. Talonflame. Che Holo. Che bella. Che bella. Roba grossa qui. E sotto... Niente. Zygarde. Zygarde forma Gagnaccio. Niente, ragazzi. Non c'è assolutamente niente. Brutte bustine. Siamo sfortunatissimi. Speriamo che in spada e scudo non ha idea di che cosa ci possa essere. Magari non venga scammata la situazione. Sennò sono 30 euro proprio buttati via, dottori. Mamma mia. La peggiore sbustata di tutti i tempi diventa. Grande Scorbanne. Grande Scorbanne. Numero uno Scorbanne. Allora qua è sempre quattro. Uno, due, tre e quattro. Noi facciamo sempre a quattro e poi mi dite la vostra. Energia lotta. Energia lotta. Fortunuovo. Qua abbiamo bisogno di fortuna per arrivare a fare qualcosa di simile tipo il nostro file plungix là dietro. Ma la vedo dura. Mantine, 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 Martello di Rompente che è quello che uso se non trovo nulla in sta bustina e spacco tutto quanto. Santo Deo. Scorbanne quello che abbiamo visto prima. Molto bene. Mi piace un sacco Scorbanne. Anche lui ci ha inandato di brutto. Nikit anche lui ci ha inandato di brutto. Attenzione. Chinchou. Chinchou. Diglett. Mamma mia è formidabile. Sto qua mi piace un sacco. Mi piace un sacco sto qua. Ferrosid. Ok. Però è diverso. Ok. Ci piace. Holo Reverse di Claydol. Ma non c'è niente. Non c'è niente. Maledetto Drapion. Le bustine più brutte della storia. Le bustine più brutte della storia ragazzi. Mamma mia non abbiamo trovato una mazza. Abbiamo trovato un Dai Ensi. Zerahora, Talonflame e Claydol. Mamma mia brutte forti. Probabilmente varranno centesimi. Che sfiga. Ah no scusate. Avete ragione c'ho pure Ivano. Ivano. Il Pokemon al contrario. E ragazzi. Boh io il like ve lo chiedo lo stesso. Vi chiedo il parere. Sapete che sono sfigato. Generalmente anche nell'ultima live di Yokai Puni Puni. Sono stato sfigato nelle slot. Ma non pensavo di continuare a portarmi dietro a sta sfiga. E vabbè ragazzi. Lenshi. Dalla mia parte si dice così. Lenshi. E noi ci sentiamo. Prossimo video. Prossima live. Lo sapete come funziona. Tutti i gruppi sono linkati in descrizione. Intanto sto spaccando tutto quanto. Facciamo così. Oh. Facciamo così. E noi ci vediamo alla prossima ragazzi. Che sfiga. Mamma mia che sfiga. Brutta brutta storia. Brutta brutta. Brutta. Brutta brutta. Grazie a tutti.